Speriamo Massimo ci dà le immagini di una partita anche importante, era questa perché era la semifinale Allora, di prima intenzione, una trasciata Raccontacelo perché adesso lo ripeteremo anche a rallenti No, niente, il risultato era quello che era purtroppo, stavamo 102-0 Poi ho visto scendere questa palla, bella, e mi è venuto così di fare questa acrobazia L'ho presa talmente bene che come l'ho presa, già avevo pensato che avevo fatto gol Prego, un gol bellissimo Stupendo, veramente bene Ma il gol che ha fatto Fulvio in questa partita è il coronamento di una stagione Fulvio merita questo